Benvenuti raga, qua è Savix che vi parla con una news raga, con una news raga, con una news raga pazzesca Allora iniziamo subito e non ci incischiamo perché come avete letto da titolo ragazzi Finalmente arriverà il trailer ufficiale di Rockstar di GTA 6 ragazzi Quindi questo famoso ragazzi e tizio che già anni fa ci aveva pescato con l'uscita di GTA 5 Aveva dato delle piccole dritte, ok? Ci aveva già stuzziccato la testa e aveva azzeccato tutto ragazzi A sto giro se ne è uscito con questo post, guardate Allora ragazzi, io non ci capisco un cazzo d'inglese, mi sono fatto aiutare a Google Translate Quindi continuiamo Quest'ottobre ragazzi, il 20 di quest'ottobre Praticamente quando Rockstar farà il 25esimo compleanno della saga di GTA ragazzi Quindi Grand Theft Auto, la prima versione di Grand Theft Auto ragazzi Il giorno prima ragazzi del 25esimo anniversario della saga di Grand Theft Auto Ci sarà un cazzo di countdown ragazzi che durerà tutto il tempo Fino al giorno dopo Dopodiché partirà finalmente il trailer ufficiale di GTA 6 Non sappiamo come si chiama ragazzi, non sappiamo quale sarà il logo, non sappiamo un cazzo Ma Rockstar è stata costretta a comportarsi in questa maniera Per quale motivo ragazzi? Il motivo semplicemente è questo Dall'uscita di questi leak hanno sfasato un po' tutti i loro piani Loro non avrebbero fatto uscire una beata minchia di questo periodo O magari sì, ma secondo me no ragazzi Non avrebbero fatto uscire assolutamente niente Ma siccome un sacco di gente ha commentato questi leak come schifosi Ma com'è possibile che un gioco che deve essere meglio di GTA 5 è peggio Perché siete dei coglioni che non siete capaci a capire Un cazzo è questo il punto Comunque andiamo avanti Rockstar quindi ha deciso di smentirci a tutti Di fare vedere cosa stanno costruendo Cosa stanno sviluppando ragazzi Ma la cosa che mi ha fatto davvero sospettire, pensare Perché è stranissimo Ora ve lo spiego È che Rockstar ha bloccato i commenti di tutti i loro social Quindi noi se andiamo non potremo più commentare un cazzo Per quale motivo ve lo spiego Perché se no Se non facevano così Era facile per qualsiasi persona andare in un sito In un social Rockstar E postare magari un leak che è stato postato in questi giorni E quindi non si sarebbe mai andato avanti Invece in questa maniera bloccando tutti i contatti con loro In poche parole Tramite di loro non riusciranno più a farsi pubblicità E questo è un piccolo passo ragazzi Non sappiamo effettivamente quel bimbo minchia Dove cazzo sia quel 16enne, 18enne infame che ha fatto un number del genere Perché sì noi che magari persone come me raga che possono capire la situazione che quello non è un gioco finito Ok Per carità contentissimi perché siamo stati spoilerati Almeno io sono tra virgolette contento Perché ho scoperto che Rockstar effettivamente sta lavorando su un gioco che sarà il gioco più grande del mondo Quindi raga non ci resta che aspettare Io sarò in live per vedere raga il logo il giorno che sarà Che sarà il 20 del 2022 Ottobre ragazzi E niente raga io spero che i miei video vi piacciono Lasciate un like, lasciate un commento Supportate Xavix Iscrivetevi da tutte le parti Attivate la campanellina se volessero aggiornati sui miei glitch di GTA 5 online raga E perché no metterò un mi piace se vi è piaciuto il video Bella Shbarabam Ciao